Penso che posso dare molto a questa squadra, ho già fatto un po' di partite e niente, sono pronto, io mi alleno forte per farmi trovare pronto il prima possibile per la squadra. Come si è trovato per adesso allo Spezia? Il suo debutto in Serie A per lui è stato come un sogno, è stato un grande passo per la sua carriera e nonostante abbiano perso, comunque per lui è stata un'ottima prestazione, è stato bellissimo debuttare in Serie A e adesso sa che ci sono tantissime occasioni per guardare avanti e per cercare di fare meglio. Prima di tutto la cosa più importante è essere tutti uniti, avere un gruppo solido, avere tutti un unico obiettivo e dare il massimo in campo. Dobbiamo andare a mille tutti i giorni perché non sarà facile, non è facile e quindi niente, dobbiamo andare tutti forti, aiutarci l'un con l'altro fino alla fine e crederci sempre. È rimasto molto sorpreso dal fatto che una squadra così importante come le Spezia l'abbia cercato e si sia interessato a lui, i primi a dirglielo sono stati il suo agente e suo padre e per lui inizialmente è stato uno shock, non poteva crederci, però alla fine si è reso conto di essere molto orgoglioso di se stesso per questa grande occasione che gli ha messo davanti. Non sarebbe così, non sarebbe così, quindi sì, ero davvero orgoglioso, ma prima volta ero un po' in shock.